Meno reati, pare anche meno furti, ma più atti di inciviltà. Durante i tradizionali auguri di Natale, il questore di Piacenza, Calogero Germana, ha anticipato il bilancio dei reati del 2014, che sarà reso noto il 27 dicembre. In realtà è diminuito, come posso dire, il fenomeno delittuoso in generale. C'è stata una diminuzione in alcune fattispecie delittuose. Quello che mi preme sottolineare è che sono aumentate, rispetto all'anno scorso, le chiamate di intervento al 113. Gli interventi poi trattati si sono risolti per lo più nel risolvere questioni di inciviltà. Cioè il cittadino sente il bisogno di fare intervenire le forze dell'ordine per riportare ad una forma più sociale persone che invece che sono in qualche modo indollerante è quello che è il buon senso nel vivere lo spazio dei luoghi comuni. Ai nostri microfoni il questore traccia anche un bilancio della sua esperienza piacentina. Andrà infatti in pensione il prossimo aprile. Allora io quando sono arrivato a Piacenza, dicevano che il piacentino è una persona in chiusa. Ho sempre risposto che è errato dire una cosa di questo genere. Perché il sorriso c'è anche a Piacenza. Il sorriso è universale. Non è che il piacentino non sorride o non ha sentimento, non ha emozioni.